Pronto Champions? Noi ci siamo! Napoli 5, Lazio 2, al Maradona! Con quattro poesie, quattro poesie citate perfettamente! Poi entriamo in quelli che sono stati i gol questa sera, al di là del rigore che ha sbloccato la gara un po' dubbio, va bene! Ma quanti ne abbiamo subiti? Ma questa sera, show time! Spettacolo al Maradona! Una squadra brillante, in forma, spettacolare e che se ne dica che quando non hai i migliori giocatori devi ottenere comunque gli stessi risultati! Perché quello che fanno i giocatori forti, gli altri non lo fanno, altrimenti non sarebbe calcio! Ma questa sera, questa sera, al Maradona prova di forza enorme di questa squadra! Enorme! Che trova il gol con Insigne su calcio di rigore per un fallo di Milinkovic-Savic che dà una scarpata in testa a Manolas e la sblocchiamo! L'azione del 2-0 è già un accenno di poesia, con Insigne che lancia nello spazio Driss, Driss con uno stop meraviglioso! Si libera di due avversari e serve Politano che entra in aria, salta Fares e buca sul primo palo Pepe Reina! Primo tempo che va in archivio con un bel 2-0, nella ripresa soffriamo, logicamente, una Lazio che voleva tornare in partita, ma la puniamo, la puniamo, la puniamo! Con chi? Con Insigne! Azione in ripartenza, con Isai che sparacchia un po' a caso ma trova Insigne e parte il contropiede! Si accentra, si accentra Lorenzo e serve Isai, Isai con calma gliela ridà, dribbling su Lucas Leiva e dal limite dell'aria una pennellata d'autore che non lascia scampo a Pepe Reina! La Lazio ci crede, spinge, ma noi forse, e dico forse, la chiudiamo con un'altra meraviglia! Su una rimessa laterale, Zelischi ubriaca, due uomini della Lazio, serve al centro un pallone fortissimo che d'impatto Driss dal limite dell'aria di prima mette sotto la traversa! Non c'è scampo per Reina! 4-0! La Lazio a questo punto però sale molto di livello, è il Napoli che si abbassa un po' troppo e la Lazio trova prima il gol di Immobile su un'iniziativa di Anderson che lo serve al limite dell'aria palla a giro, gran gol di Ciro Immobile e poi su una punizione al limite dell'aria Milinkovic-Savic forse la riapre, e dico forse la riapre definitivamente con una parabola che non lascia scampo ad Alex Meret ma poi arriva l'azione di Lozano che serve in profondità sullo scatto Ozyman una bordata, una bordata micidiale! Sul primo palo non c'è scampo per Pepe, 5-2 ed è anche il risultato finale perché la partita è appena terminata chiamiamo forte la Champions League e gli diciamo carissimi noi ci siamo, noi ci siamo, siamo tutti quanti lì 66 il Milan, 65 Atalanta e Juventus appena dietro a 63 ci siamo noi più staccate da questa sera, la Lazio a 58 e la Roma a 55 ma attenzione alla Lazio perché la Lazio non è ancora fuori dai giochi perché ha una partita da recuperare contro il Torino e potrebbe potenzialmente essere a 61 quindi in 5 punti, in 5 punti ci sono 5 squadre ma ci sono soltanto 3 posti e noi questa sera abbiamo messo sul piatto le nostre carte, tutte le nostre fiche e abbiamo dimostrato di volerla fortemente questa Champions League la squadra sta bene fisicamente, la squadra sta bene di testa, la squadra sta bene nel gioco l'ambiente è sereno, non ci sono frizioni, tutti stanno bene e bisogna andare fino in fondo ci sono 6 partite, ci sono 6 finali, si ricomincia subito lunedì si andrà a Torino per poi affrontare il Cagliari settimana successiva e non sono 2 partite facili, sono 2 partite contro 2 squadre che sono direttamente coinvolte nella lotta per la salvezza, quindi avranno bisogno di punti e giocheranno alla morte per cercare di ottenerli quindi non andremo ad affrontare squadre morte o che non hanno più obiettivi in questa stagione ma comunque non cambia tanto, non cambia tanto perché squadre che non hanno obiettivi continuano comunque a fare risultati a sorpresa quindi attenzione alle prossime due partite, tanta attenzione ci sono altri scontri diretti, già domenica, lunedì sera, subito dopo di noi se non ricordo male ci sarà Lazio-Milan, altra partita che potrebbe dire molto nella corsa alla Champions League e verso la quale dovremo tenere gli occhi perché è una partita che ci potrebbe dare buone notizie o comunque notizie interessanti per la nostra corsa che al momento è su quelle davanti, Milan, Atalanta e Juventus non bisogna mollare niente, questa sera è una vittoria fondamentale fondamentale, ma non abbiamo ancora fatto niente perché per quanto importanti siano questi tre punti non ci permettono ancora di entrare nella zona Champions League di bussare alla porta e di farci sentire, di cominciare a dare fastidio mettere pressione a quelle davanti che già di loro un po' di pressione la stanno sentendo Milan su tutte ma noi abbiamo dato una bella scossa questa sera a questa situazione Champions League gli abbiamo detto chiaramente che noi vogliamo essere della partita ed era questo il segnale che andava mandato c'erano due partite molto difficili Inter e Lazio, tutte e due al San Paolo quattro punti è un bottino importantissimo, fondamentale e bisogna ripartire da qui recuperare le energie e tuffarsi verso la partita di lunedì a Torino contro i Granata squadra che sta bene si è rinvigorita ha ottenuto risultati importanti è in crescita ottiene punti cosa che prima non faceva ma noi dobbiamo andare lì per giocare la nostra partita scendendo nel dettaglio nella prova dei singoli qualche incertezza di Alex questa sera ma comunque poi due interventi importanti e decisivi comunque buona la sua prestazione anche se deve stare attento in alcune circostanze e deve migliorare a giocare con i piedi coppia centrali Manolas Koulibaly finché sono stati in campo perché poi Manolas ha ammonito non ci sarà Torino è entrato Ramani perché ha preso anche un pestone ma molto bene hanno difeso molto bene soprattutto che ha le due tornate a livelli incredibili incredibili Di Lorenzo devastante quando parte finalmente perché finalmente parte anche lui sulla fascia riesce ad arare il pezzo di terra che ha a disposizione e fa male e fa male in coppia con un altro giocatore che poi andremo a citare che secondo me stasera è il migliore ottima prova ancora una volta contro una grande di Isai che al di là della prova in velocità su Lazzari è chiaro che subisce ma nel suo essere ordinato sta dimostrando di essere un giocatore che come seconda linea può anche essere accettato quindi bravo il sed nonostante il contratto in scadenza sta dando tutto per la maglia ed è quello che i tifosi apprezzano prova pazzesca di Bakayoko inaspettata perché avevamo qualche dubbio è chiaro che il ragazzo è lento qualche volta disattento nei passaggi ma questa sera doveva fare da diga e da diga ha fatto ha fatto il suo compito e quando è così diventa un giocatore importante molto bene Fabian sempre nel vivo del gioco straordinario finalmente Zelisky questa è la stagione della sua consacrazione all'inizio della stagione insieme a Fabian lo avevo definito il senza palle di turno quest'anno mi ha smentito e sono felicissimo è cresciuto di livello secondo me dovrebbe segnare qualcosina in più per essere davvero nell'elite dei centrocampisti di livello internazionale ma va bene così perché dipinge calcio ad ogni partita la davanti insegne che cosa gli vuoi dire prova di orgoglio di determinazione di grida di cattiveria trascinatore davvero uomo davvero leader davvero capitano quello che la gente vuol vedere e poi una pennellata d'autore da altri tempi Dries il gol è poesia il record di miglior marcatore del Napoli al fianco di Voyac è storia i suoi 135 gol in maglia azzurra sono storia c'è qualcosa che deve ancora fare a livello di ritmo si assenta a tratti dalle partite ma va bene così serve così il migliore in assoluto Matteo Politano arrivato a Napoli un po' in sordina ha avuto delle difficoltà si è guadagnato la fiducia di Gattuso e sta ripagando questa fiducia sul campo con prestazioni sempre più di alto livello e a proposito pronto? Mancini se chiami Bernardeschi sei un coglione detto questo cari amici vi lascio vi saluto vi auguro una buona serata 5 Napoli 2 Lazio arriviamo alle porte della qualificazione Champions League mi raccomando condivisione del video iscrizioni al canale attivazione della campanella senza dimenticare l'hashtag Forza Napoli sempre e soprattutto ricordatevi che il calcio lo dico nell'orecchio fa bene alle ossa buonanotte anzi buonanotte beee beee